Musica 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 No, beh, sul dibattito di ieri sera Musica Comunque La parte Cioè la differenza fondamentale tra repubblicani e democratici Sicuramente è stata una prima impressione Quella del rapporto informale Mentre i repubblicani stavano lì più scherzosi Magari un po' più Più morbidi I democratici erano di meno, però erano molto più rigide Le loro posizioni I personaggi che personalmente mi hanno colpito di più Sono stati per i repubblicani Giuliani e McCain Quelli con il piglio più forte Più Diciamo più autorevole In particolar modo McCain che ha Demolito Romney Delidento Per quanto riguarda i democratici Invece la nota diciamo Più Che meno mi aspettavo era vedere Obama In una certa difficoltà Meno all'inizio Per cui una cosa che abbiamo detto anche più volte Nel blog ieri sera E che forse ingabbiato In un contesto come quello del dibattito Tutta la spinta anche emotiva di Obama In un certo modo si scoppia Buona buona performance secondo me Di Edwards Discreta quella di Richardson Che qualcosa di interessante l'ha detto Ma come dire bello e inutile Nel senso che non ha nessuna sicurità Di dispostare chissà quanto Con senso Mentre Hillary si conferma La maestra di Richardson Dove Hillary aspira ad avere un modello Alla tace Cioè che arriva lei e risolve I problemi Però paradossalmente Hillary Al di là dei temi trattati Proprio come atteggiamento Sembra una che Dice vabbè lasciamo stare il change Lasciamo stare la speranza Ci vogliono infatti Ci vuole la concretezza Cioè la sensazione è che è come se l'onda Obama Si fosse scontrata su un piccolo scoglio A un certo punto Cioè questa è la sensazione che... Che ho avuto No No però seriamente Perché c'è quest'onda emotiva Che veniva dalla vittoria Del caucus in Iowa Che era alta Secondo me alla prima prova Non dico chi ha steccato Però Non ha ne vinto Ne ha perso La prova la doveva dare La Hillary Non l'ha attaccata La prova la doveva dare La Hillary Si può slobare le risposte Però secondo me Obama No però aspetta Non dico che dovesse attaccare Però secondo me Per l'impatto emotivo Che ha avuto Durante il caucus in Iowa Ma anche i discorsi che ha fatto Secondo me era un'onda crescente Che lui adesso deve confermare Quindi lui non deve attaccare Deve giocare all'altra attacca con la Hillary Però lui deve conservare l'onda E anche su questo Hillary Invece continuava a insistere Su tutto la Brahma Alla fine C'era poco organismo personale Nei democratici Poca personalizzazione Invece una cosa che a me Mi ha colpito E' come il tema del change Che ieri riportava il New York Times Praticamente ha avuto Delle dinamiche simili Sia nei repubblicani Che nei democratici Nei repubblicani Nello scontro Romney McCain In cui McCain diceva Il change Non sei tu che non hai fatto niente Ma io che ho appoggiato la guerra Io che ho firmato tante leggi Ho firmato qua Contro di te che invece Non hai fatto niente Ed è la stessa dinamica identica Che si è ricreata Con i democratici Per cui c'è comunque Questo parallelismo Tra il change Cioè tra chi ha L'esperienza lunga McCain e Hillary E chi invece cerca di farsi strada In realtà Mi chiedo Cioè Devi per forza essere Dentro ai giochi Da decenni Per poter cambiare le cose Oppure no E poi un'altra riflessione Che facevo ieri Dicevo anche a Paolo Che comunque Per fare il presidente degli Stati Uniti Deve avere le physique du role Cioè devi essere fisicamente E in un certo modo E secondo me McCain non ce l'ha Rispetto ai repubblicani A me quello che ha colpito È chi è che ieri Per vincitare Agape Io invece l'ho visto proprio in difficoltà Cioè perché altro non esistente Agape era uno capitato lì per sbaglio Non tanto in difficoltà Proprio inesistente Ma secondo me perché non era Secondo me perché non era Secondo me perché non era Secondo me perché gli mancava Chuck Norris alle spalle Sì E' evidente Era scarso Era scarso Ho fatto capire Sì sì Ieri è stato un moscio Non ha risposto Se i dibattiti siamo poi Nell'evento centrale Per decidere Tutto il cliente Non ci sono più alti Ma anche il cliente Comunque è interessante Non so se avete visto La cosa che tu dicevi Ti ricordi quando siamo stati Al caucus dei repubblicani Quello diceva Perché Thompson Because Just Fred Così Qui ci sono tutti i cartelli Tutti col cognome Per me i cartelli sono Fred Ma pure il sito è Fredzero New Hampshire Support Fred Ma qua ci stanno dei nomi Ma i Sì sì tipo Duncan Hunter Un Duncan Hunter E uno Rudy No io sinceramente Sono interessata A vedere di più di Giuliani Giuliani Per ora è l'oggetto scuro Di questa campagna Finora Che ci mette dentro Abbiamo fatto una specifica Domanda ai repubblicani Su perché no Obama Sì 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 L'unico Che si vede l'emblema Del cambiamento Era insomma Quello che rappresenta meglio Dall'altra parte Sicuramente è l'elemento Più dirompense In questa campagna Alla fine Quello che facevano ieri Edwards e la Clinton E' quello di rubare No? A lui Diciamo Quel significato Quella Che si è attaccato Addosso lui Insomma E ce l'abbiamo scritto dietro Dovunque va Perché lui è diventato Un sogno americano Un sacco di ragazzi A me sembrava di vedere Kennedy Ma ho rivisto Kennedy Cioè lui è proprio quello Per cui C'è E' come quelle persone Ci stanno poche Di quelle persone Che riescono a raggiare quella cosa E' un significato proprio personale Lui è uno di quelli Che nelle cose porta Ci porta dentro qualcosa di più A livello personale Per questo sembra che gli spavano Quando sta a parlare Perché è uno di quelli Che personalmente Caratterizza Si è sbilanciato Si è sbilanciato Si è sbilanciato Vabbè Il timore di tutti Ma la tassa Il timore di tutti E' che sparano Obama Perché Il timore di tutti No dai E' che ci piace E' che ci piace Pensa da prima visto Questo